Dopo aver visto tutte queste cose, prelibatezze, vini, cibi e quant'altro, manca il caffè chiaramente, no? Giustamente, perché alla fine del pasto ci vuole il caffè. La goriziana caffè. Allora, intanto, quanti tipi di caffè producete? Noi abbiamo diversi tipi di miscele. Quest'anno festeggiamo tra l'altro i nostri cinquant'anni e quindi abbiamo portato qui in degustazione a Farra la nuova miscela 100% Arabica Grand Cru, che è la miscela che va a festeggiare proprio i cinquant'anni di attività. In abbinamento abbiamo portato anche il nostro 100% Arabica biologico, che vista la serata calda si prestava molto anche in un contesto di calici, l'abbiamo proposto in estratto a freddo, quindi diverse miscele e diversi modi di estratto. Biologico freddo. Biologico freddo. Adesso lo so già. Da provare. Adesso. Biologico freddo. Biologico freddo. Biologico freddo.